In questo momento la cosa più importante secondo me è il risultato di squadra. Quando è una squadra nuova è normale che ci sono dei momenti in cui magari il reparto delle guardie assimila prima determinate situazioni e poi lunghi. Devo dire che in questo momento quello che manca a noi è un po' la costanza del rendimento perché a turno nei vari reparti, soprattutto dal punto di vista offensivo, i ragazzi hanno risposto in pieno. Per è un giocatore che in questo momento sta salendo di condizione fisica e soprattutto il fatto di aver giocato con tre allenatori diversi negli ultimi tre anni. Il dover apprendere il sistema di gioco ha richiesto un po' più di tempo però direi che nelle ultime giornate sicuramente sta salendo di rendimento, sta acquisendo fiducia. Per cui molto contento anche del rendimento di Daishon.